Allora io farei un po' di acquisti Arredamento Posso comprare o un frigo O uno scaffale Non c'è soldi per nessuno Quindi Questa va in frigo Ok E direi Frigo, frigo, frigo Scaffale, scaffale Questi li posso riprendere E stiamo sicuri che sono 1 e 1 220 euro Eh coglioni al cazzo Che cazzo lo sei, d'oro? Guarda, se mi prende quella farina L'ha presa da sopra L'ha presa da sopra un'altra volta L'ha presa da sopra un'altra volta Mortacci, doveva pure 37 euro Del resto 37 Tresa ancora Ti do tutti da un euro Dai, da un centesimo Pezzo de' merda La farina non la devi prendere Da sopra se ce ne stanno Due sotto La devi prendere da sotto Li mortacci tu 24 40 Ciao 20 euro 1 euro Questa sta streggio Perché porco diobo Ancora da 20 ce l'hai Buonasera Arrivo subito Non devi mai più suonare Eccomi Ciao 90 euro del resto 83 euro del resto Non la prendi da sotto Ma prendila da sotto Pezzo de' merda Bruce Willis Bastardo 92 euro Lo sapevo che erano pezze di merda Queste La farina La devi prendere da sotto Porco Dio Costano troppo? Ok E' ovano E' ovano Mandata una V8 Mandata una V8 Mandata una V8 Ok Il titolo più felice del far west Il titolo più felice del far west Il titolo più felice del far west Ciao Questa si è presa il formaggio Questa fa la softmax Ciao Fai la mignotta? I want a singly 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 Ehi tu Fottuto Bastardo Bello Ehi pezzo di merda Che cosa ti serve? Dai 27,90 Stupido coglione Ciao Adesso Vattene a fanculo E la prossima A te me sonite meno 12 euro Coglione De merda Vattene a fanculo Oh ma adesso Quello di prima Che stava in solito Bella Ciao signora Sempre lei Ormai è defiducia la signora Notizio Farina Però ieri hai presa la farina Zuccar a velo Schifo Guarda i t-rex Quando hanno camminato Tipo così E fa Non devi sonare Salite pure il prezzo Salite 38 e 20 Un attimo signori Ascende la luce Dai Due ore e mezza Devo rimanere Con due cosi di caffè Che poi Se posso riuscire Al minimo Viene una Se piove il caffè Ciao signora 38 e 10 Grazie Eccolo Uno e due Che t'ho detto Dio Cristo E mo viene uno Che vale il caffè Ne sono sicuro 7 e 85 Ciao Questo sta a fare Grande spesa Rega Ciao Guarda Dove va il caffè Da sicuro 10 euro Ciao Il signore ha fatto spesa Ciao Ciao Dove si sa Con chiusura 5 e 90 Ciao Bello 67 e 50 Ciao Chiudo? Vediamo se lui viene Se non chiudo Lui entra Se non chiudo Lui entra Lui entra Lui entra Lui entra Lui entra Chiuso Vai Dio E qua Non vedete Basta Bello 11 e 20 Ciao Bello Ma ragazzi Anche per questo Episodio Cioè Anche per questo Per questo Primo episodio È tutto Alla fine Ci siamo Espansi Abbiamo allargato Un po' Il nostro Supermercato Abbiamo Messo un frigo E adesso Proveremo a comprare Un altro Scaffali Magari Dalla prossima volta Che lo vedrete Voi Già avrò Modificato qualcosa Non so Non so se giocherò Off camera Detto questo Vi ricordo di farmi sapere Nei commenti Se il gioco vi piace Così che Io lo capisco E continuo la serie Perché se non vi piace Ragazzi Me lo dite È inutile Che la continuo Detto questo Io vi ricordo di lasciare Un bel mi piace Ed iscrivervi al canale Vi mando un bacione Ci vediamo alla prossima Bella